Oggi sono in compagnia, in questa giornata, di Giorgio Zaccari, cantautore e non solo. Prima, tornando in vieto, ho fatto parte di vari gruppi musicali come Batteria e Voce e poi da settembre ho iniziato come cantautore, ho collaborato con l'orchestra e continuo a fare i miei singoli. Ecco, una canzone che tu ci hai legato e ci vuoi proporre oggi? Un ricordo di te, un bravo stile, un sessalotà. Ok, dove ti trovano i nostri amici? Sì, su Facebook, nella mia pagina Facebook. Cosa ci canti adesso? Un ricordo di te. Un ricordo di te, vi lascio con Giorgio Zaccari. Oggi mi sento diverso, vago per le stanze di casa. Cerco un ricordo che mi parli di te, mi sento solo perché non sei con me. Oggi, osservo un migliaio di foto dove la tua immagine appare. Sorridi, vai le facce e sei felice, ed io con te mi sento morire a stare senza di te. Fuori sta cadendo la neve e rimango a fissare lo spettacolo in un po'. Grazie.